Dov'è questa mommina? Non la troviamo una mommina per voi? Non la troviamo? Non la troviamo? Non la troviamo? Ancora non l'abbiamo trovata. Felici, sono felici, sono felici questi monelli, questi monelli. Ora fate i bravi, dai, avete corso, avete giocato in tutta la stanza, la vi ho chiuso e fate la mommina, eh? Fate la mommina, eh? Terremoto, terremoto, terremoto. Andate a pappare tutto, andate, andate. Già hanno capito che i bisogni si fanno solo sulle traverse. E già è un grosso passo in avanti. È vero, eh piccoletti? Ciao. Ciao.